L'incendio è sotto controllo, i suoi uomini sono praticamente in lavoro da quasi 24 ore. Che prospettive ci sono per mettere a bonifica l'area? Ma questo è un lavoro lungo, l'importante è che da stamattina le fiamme siano sotto controllo, questo ovviamente è il fatto che siano confinate e non abbiano possibilità di estendersi. Questo è il lavoro che abbiamo fatto stanotte che ci rassicura, ma è un lavoro adesso, quello di bonifica e di completo spegnimento delle fiamme, è un lavoro lungo, difficoltoso, ci vuole del tempo. L'aria è ancora irrespirabile qui e nelle zone di Verasche? Beh, questo ovviamente ancora c'è, ci sono fiamme, quindi l'incendio è ancora attivo, quindi c'è ancora produzione di fumi, fumi visibilmente sono ridotti rispetto a quella, la portata, quello che era ieri, sono fumi anche più bassi, le precauzioni e le indicazioni che sono state date sin dal primo momento sono valide, sono valide ancora adesso, quindi chiudere porte e finestre, quindi questa è l'indicazione, questa è la raccomandazione che possiamo dare fino a questo momento.